Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Gansino Pisa, 21 agosto ore 19.30, multisala Odeon, sala Pisa Titolo del film Nob Di genere fantascienza, il film è perfetto, dura circa 2 ore e 10 minuti, proiettato senza interruzione ed è da non mancare di vedere. Un buon quadro descritto come si deve. La famiglia Haywood, proprietaria di un ranch dove alleva cavalli per le case cinematografiche hollywoodiane, nota che accadono fenomeni sempre più sospetti, che fanno pensare ad una presenza extraterrestre. Pregi del film, diverso dalla classica fantascienza ma che è da fantascienza, con forti ingredienti horror e che richiamano grandi registi come Steven Spielberg in Incontri Avvicinati del Terzo Tipo e Stanley Kubrick. Un film la cui tensione la si calca come fosse un acceleratore dal quale non si toglie il piede per non perdere il giusto ritmo. La citazione biblica iniziale del film, meno nota di altre, pur non sembrando avere niente a che fare col film, ne sarà invece la chiave di tutto. La colonna sonora non è tipica dei film di fantascienza ma è perfetta come il montaggio e le sequenze. Il regista Jordan Peele si dimostra pienamente all'altezza. Difetti del film, nessuno. Anche questo è cinema. Il cinema è contro la guerra. Viva il cinema! Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Ganzino.